La settimana scorsa è stato firmato questo protocollo tra i presidenti di quattro regioni, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, per uno sviluppo delle infrastrutture lungo il corridoio adriatico. Un protocollo che voi approvate, però ci sono già le prime scadenze e l'auspicio che dalle parole si possa passare subito i fatti. Certo, noi abbiamo appreso assolutamente favorevolmente questa iniziativa dei quattro governatori che amministrano le regioni del centro meridione che si affacciano sull'adriatico. Abbiamo apprezzato anche che siano state messe da parte anche alcune divergenze politiche che ovviamente ci sono perché queste regioni sono anche eterogenee dal punto di vista politico. E quindi si è deciso in pratica di puntare all'obiettivo di colmare un gap infrastrutturale datato nel tempo per il quale ci sono grandissime responsabilità proprio dei politici che hanno governato queste quattro regioni e hanno permesso che si creasse appunto questa disparità di trattamento rispetto al resto d'Italia. Quindi è sicuramente una bella notizia, c'è da fare tantissimo, c'è qualche iniziativa che è già stata portata avanti, penso sicuramente alla Bari-Napoli che collegherà appunto l'adriatico con il terreno. Sono stati previsti grandi stanziamenti, così come abbiamo appreso poco tempo fa anche della linea veloce ferroviaria tra Pescara e Roma, anche lì grandi investimenti. E probabilmente noi ci attendiamo analoghe attenzioni anche per il Molise, che non ha un collegamento da Termoli verso il Tirreno, così come ci attendiamo che ci siano sviluppi anche per Orte e Falconara che interessano le Marche. Analogamente ci aspettiamo che ci siano interventi anche nel settore autostradale. Noi abbiamo passato tanti guai nei mesi scorsi a causa della chiusura di alcuni viadotti. L'idea di estendere la terza corsia autostradale fino alla Puglia, quindi fino a Lecce, è sicuramente una decisione condivisibile. Però ripeto, tutto questo poi deve essere corredato dai fatti, come diceva lei. Siccome ci sono delle scadenze che incombono, io penso a quella del 2 novembre, per la revisione dei corridoi europei, Noi stiamo puntando, soprattutto come Abruzzo, al corridoio est-ovest che collega direttamente Barcellona, passando per Civitavecchia, Pescara, Ortona e Ploce. Ecco, noi siccome sappiamo che c'è una scadenza, che è quella del 2 novembre, entro la quale vanno presentati i progetti di modifica di questi corridoi, vorremmo che fossero conseguenti. Grazie.